May, 11 anni, troppi segreti nella sua testa. Quella ragazza non deve lasciare la città. Luke, ex agente speciale. Amavi tua moglie. Troppo vuoto nel suo cuore. Tutto ok? Perché mi hai salvato? Tu hai salvato me. Ma sei partita! Jason Statham. È un codice. Safe. Lunedì, venerdì 15, Italia 1. Tu, il raccogli immondizia. Non ho mai raccolto l'immondizia. La smaltivo.